buongiorno benvenuto in questa masterclass dedicata a un tema che non puoi non seguire fino in fondo se ami o credi nel tuo business ora la masterclass è stato interessato come creare una pagina per vendere un corso online in questo video cosa andiamo a vedere vedere il perché si costruisce in un certo modo ma fondamentalmente questo perché come costruirlo per quella grande di dire vedremo ovviamente il lo schema la logica strategica che sta dietro a una pagina online di successo per vendere un corso online e da qui sostanzialmente capirete la differenza per chi vende e chi non vende un corso online chi sono io sono matteo barberi sono un docente un esperto di formazione online e offline e un esperto di marketing formativo da ben oltre 20 anni devo subito allora a prendere subito un esempio pratico e lo faccio tanto con orgoglio perché è una pagina web che sto mettendo online tra poche ore ci siete fortunati di vedere qualcosa che sto ancora definendo nei dettagli ma vedremo come farlo e quanto è semplice farlo se hai un partner o un coach al tuo fianco è l'unico modo per raggiungere i vostri obiettivi è sempre avere un coach al tuo fianco ma condividere vado a condividere adesso entro da questa parte ok questo è quello che si chiama una pagina di vendita in questo caso più di tutto ci dobbiamo porre quando andiamo a realizzare una pagina più tutto toglietevi quello schema orrendo di utilizzare le pagine dei carrelli online che non venderanno mai perché un corso è un prodotto ma è un prodotto trasformazionale che deve creare emozione e mettere un'immagine e un titolo vendere pari a zero per il benissimo che la mia filosofia è che se faccio business online con la formazione devo farla che renda ok per rendere quando rendo non vuol dire che il sia pagamento perché se tu sei in questo momento un provider cm sei un intercreditato fai dei corsi che poi hanno un obbligo formativo ma devo anche acquisire corsisti quando si parla di conversione significa converti gli iscritti la la parola più conosciuta sarà cta call to action che vediamo tra un attimo non tutto ti svelo proprio così velocemente ma ovviamente il modo migliore per fare un piano di formazione online di business è sempre allontanarsi dal low price per quello allontanarsi il più possibile e andare sempre lavorare su live ticket mai e poi mai lavorate su low price perché vuol dire non avere la posizione di fare quello che vediamo adesso e di poter non fare nulla per quello come arrivano i clienti chi siete voi la bacchetta magica o le fatine io non ci credo ancora è come quando il bambino crede ancora bavo natale ma se a sette anni dobbiamo dirglielo che non esiste più bavo natale ma che siamo noi a farlo e anche questi voi a doverlo realizzare ok insieme ad un buon partner che sarà vicino a voi questa è una pagina che io ho realizzato con un fine perché lo prima vado a scrivermi su un foglio di obiettivi ok di questa pagina quali sono gli obiettivi acquisire iscritti ok ha l'obiettivo è quello di far chiamare la persona e voler fare un primo incontro con un vostro advisor o un consulente formativo perché il vostro corso ha bisogno poi di analizzare cioè fare attività di vendita se non si vende perché se abbiamo corsi o la richiesta informazioni no che poi significa far partire un processo di vendita che è un'altra cosa che vedremo in altri video di questa masterclass quanto durerà questa master club andremo intorno a un quarto d'ora 20 minuti prendetemi comodi mettete sul vostro ufficio sedetevi e con attenzione portate e ascoltate al tema del quale inviatemi qualunque domanda o dubbio che possiamo fare insieme l'obiettivo di questa pagina qual era è quello di acquisire sostanzialmente dei prospect cosa sono i prospect dei clienti come puoi essere tu dall'altra parte che vuoi sostanzialmente conoscere cosa fa for meeting per il mondo della formazione per gli enti accreditati per i provider e cm per i professionisti che vanno online ho già parlato in questo semplice parole di che cos'è un avatar di cos'è un target cos'è l'audience quello io se non ho un'idea dell'audience ma rispondo ancora io voglio vendere il mio corso a tutti non partiamo neanche chiudi non partire e ci vediamo la prossima volta per costituire questa idea puoi chiudere anche adesso il webinar che stai frequentando perché io devo avere un audience precisa in questa pagina web tu noterai che io sto parlando sia l'ente accreditato sia al provider e cm che al professionista ma già coloro che hanno già una soluzione learning o coloro che vogliono iniziare ma fondamentalmente visto in questa pagina parlo ovviamente noi lavoriamo anche con quelli che vogliono iniziare il business ma questa pagina di comunicazione ha l'obiettivo di parlare a loro mi hanno parlare con gli stessi ton di voce stessa comunicazione questo lo fai conoscendolo normalmente chi fa queste cose magari una segretaria un'operativa che non ha neanche in mente la consapevolezza di cos'è un tono di voce come si comunica o nel 90 per cento lo sottovaluta detto questo io vado a parlare alla mia odio che ho dietro a questa pagina c'è un lavoro di lungo lavoro insieme al a un consulente o al mio team col quale ho lavorato e quale abbiamo definito prima gli obiettivi l'audience come comunicare il perché farlo tutta una serie di domande che sono obiettivo principale nella prima fase di costruzione di una pagina di vendita ecco ricordate che se non fate questo ecco pensare di prendere un software e di fare una landing page ciao 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 come direi io nei vostri confronti no non funziona ovvio che poi la prima cosa che devi far vedere quella che avrei chiamato headline in termine tecnico è sostanzialmente far capire sostanzialmente cosa fai e a chi ti rivolgi ok quello io vado a dire garantisce i tuoi corsisti corsi validi documentati conforme la soluzione che protegge e semplifica la formazione dicono io mi sto riferendo in modo particolare di cui di coloro che hanno bisogno del tracciamento della formazione perché è un target sul quale noi abbiamo il core business ok ovviamente la professionista vuol fare un corso noi lo facciamo e lo facciamo molto bene però ovviamente con i provider cm enti accreditati aziende b2b che però vogliono avere un tracciamento di sapere cosa fanno i loro corsisti in maniera iper dettagliata io è quello che voglio colpire questa è la prima frase poi abbiamo realizzato e questo vi consiglio sempre di farlo un video ok che dura un minuto e mezzo un'ora e cinquanta che ha un suo script specifico ok che ha l'obiettivo di far fare l'azione all'utente non parlo del prodotto del servizio ma parlo dell'odio dei benefici e tanto altro ovviamente non posso svelare proprio tutto però e parla di benefici di cosa otterrai tu ente formativo in questo video lo faccio in un minuto e mezzo ok perché ricordate che la prima cosa a ottenere da una pagina web di vendita e l'attenzione con il video ti metto l'interesse col passo a interessarti a posso ottenere questo con quel corso ecco capite come sta ragionando la mente quando arriva ovviamente per arrivare a una pagina ricordiamoci parleremo di traffico ma il traffico è la parte finale che si va a lavorare ok ok lo vediamo alla fine di questo aspetto volete che il servizio o l'inclusi che mette fino all'uso di software limitati e anonimi offrendo un paro inaffidabile su cui contare quella diciamo subtitle possiamo definirlo cerco di sottotitolo ok fa capire già un pochino dalla piattaforma for me cioè che siamo l'inclusi che siamo tutti e che siamo iper personalizzati ok cioè non voi non otterrete mai una soluzione anonima ok già questo comincia a darti un po di informazioni quelle che necessitano per poi fare quella che abbiamo chiamato precedentemente cta cioè call to action chiamata l'azione cioè quello che io voglio far fare in questa pagina le azioni che si fanno fare in una pagina è una ed esclusiva non avete a fare due azioni diverse quando si parla mandare i social nel sito nella pagina non mettete nulla perché in questo momento focalizzate il focus il focus è la cosa fondamentale che devo ottenere di chi sta navigando è l'azione come vedete cosa abbiamo scelto come come ci ti arriviamo tra un attimo ovviamente i tre punti fondamentali della vo del vostro percorso formativo ok l'imposte tracciamento valutazione dell'apprendimento e la certificazione e le certificazioni semplici sono tre elementi che vanno identificare quali sono i corbis o i punti di forza del vostro corso in questo caso della soluzione del ring il corso vuol dire chi devo dare i tre benefici fondamentali che ottengono il tre è classico poi iconico lo puoi andare a effettuare appunto vista grafico ma oggi non entro nella parte grafico di design o di experience che va bene ma attenzione a non farsi fregare con la grafica perché la grafica deve essere buona non tutto sulla grafica e nulla di strategia tre elementi il bisogno cosa ottiene il corso se partecipano quel corso uno due tre le tre cose che tu sai che sono le idee per lui ok tu stai parlando a lui non a te stesso non c'è lo specchio nel mondo del marketing ti può fegare di meno se è bravo bello o pensi di esserlo come molti pensano di esserlo io non lo so se sono bravo o no solo che i risultati mi danno ragione in questo momento allora questo è il mondo col quale andiamo a lavorare i tre elementi e sotto la cta prenota un'analisi gratuita cioè l'obiettivo del della prima parte di questa pagina di diciamo di vendita è in questo caso potrebbe essere richiedi informazioni punto potrebbe essere potresti dare qualcosa di gratuito come io vado a fare perché io devo anche incentivare la cta no se ti faccio un'analisi gratuita è più facile nel mondo b2b in questo momento che lavoro con il mondo b2b e qui fare le tue valutazioni di chi è l'audience e qui avrai un coach che ti aiuta a capire meglio cosa stai facendo in base a quello che hai metterà una cta che porterà o a fare x a fare y che tu andrai a decidere ovviamente io non sono per acquisto online dei corsi lo ripeto perché lo vuoi fare si può valutare ma ci deve essere forse una logica strategica anche diversa poi vado a identificare l'avatar come vedete ti occupi di che cosa ti occupi della formazione online dei tuoi dipendenti cioè b2b 10 corsi cm cioè un provider sei preoccupato per la conformità normativa e sicurezza dei tuoi corsisti ok preoccupazione preoccupazione vuol dire il problema problema io che peso dopo il problema che valore ho più peso do io a quel problema cioè che percepisce più facile che lui continui ad leggere quello parola magica benefici ma anche problemi ok lo ti dico a chi mi rivolgo potrei mettere anche a chi non mi rivolgo però non è che sia così necessario subito ma se io identifico a chi mi rivolgo manager che hanno questa esigenza che sono preoccupati di coloro che hanno bisogno di queste cose ci aiutano a costruire una pagina di vendita per quello quello che poi dai ma questo questo per esempio è il cosa ottengono più tranquillità più sicurezza più credibilità sono elementi fondamentali potremmo applicare a qualunque cosa è questi elementi ok non sono legati al prodotto sganciatevi in questa pagina dal prodotto dal corso ma cosa da e cosa voi date a lui ok non sostanzialmente io non entro spiegarti che cos'è ok ma ti dico cosa ottieni poi ovviamente alcuni elementi caratterizzanti che sono elementi fondamentali di formating che provete gestione ispezioni team multidisciplinare automazioni sicurezza conformità formazione tecnica supporto e progettazione tracciamento reporting in cose che può leggere senza farlo perdere nel mondo due tre bullet point in cui quello che distingue se scegli scegli quel tipo di corso o potete mettere quello che ottengono quello che fanno ok per di essere chiaro se non lo sono fate le domande che entriamo ovviamente per per fare che cosa per corsi online corsi in aula corsi streaming e blending cioè quello che la soluzione può essere utilizzata ok vado a mettere un claim che per me è fondamentale perché puoi andare inserire anche questo messaggio e sulla formazione potremmo averne migliaia e questa è l'unica realtà nella formazione se progetti guadagni se carichi contenuti e basta ai solo costi e qui ragionate non vi do perché sennò vi darei una consulenza gratuita come si costruiscono i corsi online e quali funzionano e perché si fanno in un certo modo non vi dico quali che possono andare di più perché ovviamente arriva dalla mia esperienza e so quanto si può arrivare nei ticket ma se tutti fanno corsi online e basta come vedo solo video i soldi non li fate per quello ci sono un po' di ragionamenti che in consulenza si possono vedere che posso svelarvi anche qui se fissate una consulenza diciamo con me una prima si può vedere come stai facendo e come si potrebbe fare ok poi ovviamente partner un po' di informazioni la parte dei corsi obbligatori i costi operativi ovviamente uno degli elementi fondamentali che tu ottieni con qualcosa per noi è il tempo ok e la sicurezza della tracciabilità e io porto sempre poi cosa dicono di noi sono le classiche testimonianze che non possono mai mancare in una pagina di vendita sono obbligatorie in questo caso io uso la doppia uso sia le testimonianze con chi ho lavorato che queste queste basta non bastano servono anche queste cosa dicono ok sempre poi un'area che direi che funziona molto bene sulle facca cioè tutte quelle che sono le domande che la persona ha in testa mentre sta guardando e sta cominciando a ragionare sul corso ok queste sono cose da stilare molto bene ok ovviamente importante del testo come poi vedete ovviamente un supporto di un copywriting che vi fa questa parte diventa molto molto importante ok modo particolare anche nella parte delle fac però io con le fac riesco a trovare magari qualche domanda quali professionisti compongono il team di formating ok sulle domande che tu molto probabilmente mi potrai fare anche prima dopo la chiamata quando andrei in prima chiamata allora queste sono bellissime che diventa non saranno più obiezioni ok perché gli hai già risposto prima ok questo è fondamentale nel processo di perché la pagina di vendita non è scollegata al è all'interno di un processo il mio è stato chiaro con questo concetto perché tutti pensano che la realizzazione non c'entra con l'azienda ma è tutto quello che se meno colleghi meno fai business ma più è collegato e omogenee coerente funziona ok ok questo perché un tipo funziona così ora ecco prenota e io vado a fare la mia prenotazione poi qui ovviamente vi faccio vedere una cosa già un pochino più avanzata ma vi posso dire dandovi anche qui una chicca e un bonus che in realtà questa funziona per quello io posso andare a cliccare al posto che far compilare una una forma io li metto anche nelle nelle nella parte dell'azienda che magari ha creato un target a un corso di un certo price eccetera non tutti potranno farlo ora quando identifico bene l'avatar è perché io non voglio che tutti arrivino a chiedermela io vado a fare una selezione con una query in questo caso un sondaggio si può utilizzare qualunque programma non entro in medio dei programmi adesso in questo momento ce ne sono veramente aiusa io vado a fare mi sono predisposto una serie di domande che mi serviranno prima durante il primo incontro io vi sto lanciando anche qualcosa che i uomini di marketing non ve lo dicono perché i processi non li conoscono loro fanno un po di marketing c'è chi fa un po di pubblicità chi fa mai cos'è un processo che ha tutto un'ogica strategica su tutti i punti questo di aver avuto una scuola ok che io ho avuto che ho gestito per ben 15 anni lo so il processo ma ho fatto anche marketing lo faccio marketing in quell'ambito allora ovviamente io chiedo quali sono le aree formative cosa ne non so se un lavoro nella sicurezza o altro poi alla fiscale vado a capire che tipo di avatar è nello specifico rispetto a quello che ho identificato ipotizziamo provider cm ok se già online o no mi può servire come info ok e qui chiedo la domanda fatidica fatturato perché io non posso lavorare con tutti se uno ha meno di 30 mila euro all'anno di che che dichiara io non lo prendo neanche in considerazione perché non lo non lo vado neanche a selezionare non lo voglio andare a discutere con chi fa 10 mila euro all'anno ok perché non è non è ancora pronto per entrare nel mondo for meeting aspettiamo ovviamente se so che fa tra i 70 e 120 mila euro avrò un tipo di approccio se fa più di un milione avrò un altro tipo di comunicazione che avrò all'interno ok vado e poi qui veniamo di compilarlo andiamo velocemente vedete qua sono i dati alla grafica mi serviranno per essere raccolti in un database tutto in automatico l'automazione penso che sia uno standard che dovete avere e se no non serve a niente avere una pagina web un sistema che trovate anche la mia email se volete se volete scrivermi io sono completamente a disposizione per rispondere alle vostre domande ok o curiosità che ritenete opportuno mettiamo l'azienda via e ovviamente che cosa succede queste domande vanno a finire sul sistema che vengono raccolte ovviamente ci sono una serie di applicazioni che vi permettono di fare tutto questo ricarico in automatico arriverà una notifica a voi notifica che vi dirà guarda che hanno compilato una forma ok per quello contattala e mi fermo qui perché tra un secondo vi dico qualcosa in più ok io faccio un ridiretto dire lo manda una pagina a una pagina dove do un video adesso chiedo a voi perché io vado a mandare una pagina questa thank you page con un video intitolato per capire come funziona for meeting questo mi lascio proprio normalmente mi lascio 30 secondi per poi magari scrivermi in chat che cos'è e perché ho fatto questa cosa perché ad ogni azione ci deve sempre essere un perché un why se non c'è un why region non serve niente a fare nulla ciò non è tanto per buttare via tempo dai mentre arriviamo cominciamo a dare un po la risposta al motivo perché l'ho ridirecto verso una thank you page con un video e basta perché io ho fatto un processo abbiamo studiato insieme al team dove arriva il dato la persona viene chiamata fisicamente si usa una tecnica chiamata pce ok che è una tecnica di vendita ok specifica per prendere l'appuntamento anche qui tutto bello fai il funnel chi risponde non è capace di prendere l'appuntamento casca nuovo ti ricordo che i processi non sono la pagina web cioè io sto arrivando mi arriva un contatto in target bla bla arriva a delle persone ad uno staff che comincia a parlare di prodotto tu hai perso la vendita sono stato chiaro su questo passaggio è i processi è arriva io dove si cosa fa qual è l'obiettivo quando chiamo quella persona obiettivo è pce ok cioè prendere un appuntamento delle tecniche ci sono una serie di attenzioni che devi avere in quella chiamata e ovviamente io ho formato il mio personale su questo tipo di attenzione ma non perché voglio fare il figo perché converte io devo sapere quanti appuntamenti vanno perché fa una prequalificazione prima di arrivare ad altre al team di secondo livello o anche io mi voglio intanto ci sarò anch'io a fare questo tipo di attività perché mi diverto mi piace sempre conoscere i clienti i preclienti prima di iniziare perché a una certa fase arrivo io ok a fare però l'ho deciso quando e perché perché c'è il pc però si sbaglia la chiamata finito ciao io so che a un certo punto questa persona vuole già vedere la piattaforma in un certo modo ed è qualcosa che deve vedere prima si chiamano pop per capirci quei contenuti che io devo avere già preparato per poter far sì che quando arriverà l'appuntamento diciamo della colla perché noi lavoriamo con un processo colla appuntamento e poi video call che lavoriamo tutto in videoconferenza ok lui abbia già visto questo video cosa porta aver visto questo video domanda che faccio anche a voi è un video che dura 30 minuti con un taglio sui benefici ma vedono anche la piattaforma tutto il sistema l'ho fatto l'ho con nella formazione dura due ore l'ho fatto in 30 minuti ok perché l'ho quell'obiettivo di far sì che lui tutta una serie di domande che mi fa nella prima nella trattativa diciamo commerciale ok con me o col mio staff noi siamo advisor in quel caso capiamo se lui è per noi ok lì c'è una tecnica altre tecniche di vendita che si chiamano ovviamente diviso in non entro però ci sono anche qui nel ne parlo tanto sono coach anche di questa parte con i miei clienti in cui si struttura un incontro finalizzato a vendere un corso perché ci sono delle fasi obbligatorie se non le non seguino dei blocchi di vendita non vendi il corso anche qui potresti cadere poi in chi comincia a parlare del prodotto o che bello che figo o che non compro la risposta che gli può arrivare alla fine dell'incontro è ci devo pensare vendita troppo alto costa troppo devo sentire il mio socio ecco queste domande sono ricorrenti in tutti i prodotti e servizi io non devo averle per non averle devo avere anche un video che magari mi dà autorità mi crea già una serie di perché di decisioni ha visto quali sono i benefici usando quelle funzioni lo specifico e gli dico anche già come lavorerò con lui mentre faccio la formazione questo è un video che si chiama proprio video di aggancio ma con l'obiettivo e questo è fondamentale errore che nessuno utilizza perché far vedere un video online glielo fa vedere come funziona vedere i capitoli ma nell'ottica non si di semplicità ma ti crei benefici questo imparerai quello ti permetterà di due o tre passaggi lui è già entrato quindi dicendo sei già mio cliente ok io lo mando prima così in trattativa lui ha già l'idea di come funziona tutte quelle domande e ma com'è 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 e addirittura in pce cioè nella quando prendi l'appuntamento sarà ribadito e sarà armato un'altra volta il link a quel video in cui è quel contenuto dicendo consigliando di vederlo prima dell'incontro perché riuscirete a ottimizzare l'incontro con l'advisor e con il nostro consulente ok cambia il mondo eh l'interno e sono piccoli dettagli non è che abbiamo fatto qualcosa non è niente di nuovo però se tu non hai anche gestito e tu pensi che basta l'email e rispondere all'email a vendere o il carrellino ma dove sei? in che mondo siamo? 2023 eh? competitor ipercompetitivi la differenza la fanno chi? il tuo personale il tuo team non lo fanno il resto ecco questa cosa mettiti bene in chiaro che è lì che devi fare o sei tu il titolare ma devi conoscere io spero che vi hai dato già degli input ottimi per iniziare questo video ti cambia sostanzialmente questo redirect ti cambia completamente alcune volte il tuo modo di lavorare semplifica trovi di pop i contenuti che ti servono e prendi uno sai che quello colpisce quello ti dà il momento in cui arrivi poi nella trattativa ora lì devi avere poi tutte le capacità di vendita ma secondo delle procedure procedure chiare se non ce le hai neanche in vendita perché non sai come si fanno tu non puoi andare a vendere spiegando il prodotto e il servizio com'è il corso moltamente non lo spieghi neanche com'è il corso non hai bisogno come sai in vendita e userai altre leve che sono quelle che ti permettono di vendere in modalità high ticket però non entro in vengolo è un argomento che vado a trattare specifico insieme ai miei clienti come abbiamo visto in questa parte l'obiettivo era molto chiaro arrivare lì adesso torno da questa parte ok torno qui perché lo tolgo in questi in 27 minuti abbiamo fatto questa interessante prima parte di analisi avrete potuto vedere tutto ok in questa parte quello che posso dirvi e che abbiamo mi avviso fatto molto bene e qua adesso vi lascio anche tutte le domande ma andate gli email così possiamo poi continuare su questo argomento è come nella semplicità strategia avere strategia vuol dire avere dei prospect ok o dei lead e qui si possono capire due strategie normalmente ce ne sono due o tre io amo solo il prospect perché è ovviamente diretto e arriva dove deve arrivare e questo è l'obiettivo allora io cosa posso dire guardate questo mastercard qua sotto vi metterò un link se volete prenotare un'analisi di un quarto d'ora molto veloce del vostro business dove volete arrivare e io vi dirò anche come si può arrivare ok per adesso grazie da Matteo Barberi e adesso buona e buona notte a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti